Buona, io leggo un bravo tratto proprio da un libro del professore Rizzelli, un piccolo muscolo, si chiama Chiesi di memoria, che fu dato a tutti noi gli insegnanti quando il professore Rizzelli era in pensione. E devo dire che quella fu l'occasione per scoprire aspetti del professore Rizzelli che non conoscevo, o almeno non conoscevo in questi termini. È un grande studioso, l'abbiamo già detto, ma è una persona, è una grande anima prima di tutto. Tutto mentre calza il ricordo di quel settembre del 43. Il treno corre, corre verso la morte, ruote e strantuffi in allianza con le rotagne e ripetono sessilolette, verso la morte, verso la morte, verso la morte, verso la morte. La paura sale dalle gambe, afferra lo stomaco e lo stridola, lo distrugge per passare subito ai polmoni, al cervello e martellare la parola della piena vita. Langer, langer, langer. E poi il volo che al treno incorsa, e l'impatto al suono, e gli spai dei tedeschi, e il fischio della locomotiva che richiama l'urlo dei morti lasciati sul selciato della stazione di forza. Quando tutto è silenzio, quando il vento riprende voce, e ritorna la gioia, quella sconvolgente e blasfema, trovata uscendo da sotto la montagna dei corpi umani che mi ha sepolto. E constatando che loro sono morti, e io vivo, vivo. Il mio amico Vito ha deciso per me, ha fatto tutto lui. E con me a terra, schiacicato al suono, ci abbracciamo, piangiamo, cerchiamo il mare, sapendo che con lui alla nostra sinistra si va verso casa. La campagna generosa e materna, nonostante l'inferno, ci fornisce frutta, erbe, radici, e plaga con i suoi abitratti e cespugli, la nostra paura, degli uomini, della luce, del sole, del vento, dell'aria. Dopo tanto camminare, è colato del 27 settembre. Sono a casa. Riprendo a ricucire ancora una volta le ferite che la storia ha voluto incidere sul mio corpo, segnare nel profondo del mio cuore, imprimere nel mio carattere. Nasce l'ottimismo, abbandicato alla fede di una divina provvidenza che tutto trasforma in bene.